Sono occhi speciali. Quando Francesco li vide, dopo aver visto quegli occhi, la vita sua non fu più la stessa. Questi occhi sono alle porte di San Severino Marche, gli occhi del crocifisso glorioso all'interno del santuario San Salvatore in Colperzito. Hanno dato a San Francesco la possibilità di guardare in modo nuovo il mondo. Che in quegli occhi lui ha visto la risposta al senso della propria vita, in quegli occhi vede la tenerezza di Dio, vede la fedeltà dell'amore, vede l'incontro tra il padre e il figlio. Questo gli dà uno sguardo nuovo su se stesso, lo fa diventare un uomo libero e leggero, un uomo capace di dono di sé nella povertà, nella semplicità, gli fa creare rapporti belli, buoni con gli altri. San Francesco amava le Marche e tra i suoi posti del cuore c'era proprio il santuario di Colperzito, dove oggi ci sono i cappuccini. Certa è la presenza ripetuta del santo. Con un documento del 1223 è nero su bianco anche il suo attaccamento nei confronti di una comunità di donne religiose. Per venire nella Marca d'Ancona molto probabilmente è passato sul Cornello, il fiume Potenza e dunque è accanto a San Severino. Probabile che abbia sentito di queste donne religiose, l'abbia voluto visitare, vide il crucifisso e si legò con questo posto. Tra i fatti che legano San Francesco al posto, anche uno che vede protagonista una pecora. Una pecora che vede in pericolo, tra caproni, sente che quella pecora stava rischiando di essere uccisa, se ne fa carico, deve riscattarla, non c'era altro modo se non un investimento economico, coinvolge un ricco che gliela compra, se la prende con sé, la porta da Osimo fino a qui e tra l'altro Osimo incontra il Vescovo e il Vescovo si stupisce di che quest'uomo ormai famoso, siamo nel 1220, portava con sé una pecora e dice ma che roba è sta pecora. La pecora la donò alle donne religiose, chiedendo loro di prendersene cura. In fondo la storia della pecorella, una storia concretamente avvenuta, ne siamo sicuri, ci dice quali sono i cardini dell'ecologia, fare attenzione, accorgersi che c'è un mondo in pericolo, investire, chiede investimenti economici seri e fare rete in modo tale che le scelte buone abbiano una continuità. Il Convento dei Cappuccini di San Severino Marche attualmente è anche un centro di esperienze e formazione francescana, con incontri mensili per laici e religiosi, momenti di preghiera e accoglienza per offrire una consapevolezza storica sulla vita di San Francesco, regalando bellezza. Il 4 ottobre è giorno di festa.